buonasera allora faccio adesso il video mentre in corso Venezia Cagliari perché voglio vedere nei minuti di recupero se riesco a provocare per la terza volta consecutiva un gol in una partita perché sarei veramente incredibile però Cagliari sta attaccando tremendamente perché è una situazione veramente incredibile quella che si sta verificando adesso una volta per la salvezza perché la Salernitana ormai la partita non la vince più sotto di quattro gol mentre vi sto parlando mentre il Cagliari sta disperatamente cercando di raddrizzare la situazione basterebbe un gol solo al Cagliari per salvarsi diciamo pure clamorosamente per la Salernitana per retrocedere altrettanto clamorosamente perché insomma era riuscita a rimediare una situazione veramente drammatica io però chiaramente siamo all'ultima giornata ragazzi qua non c'è un attimo di sosta in questo partito dicevo già fare i complimenti al Milan bisogna essere onesti sinceri e il Milan ha meritato strameritato questo scudetto sono contento per Pioli personalmente perché lo conosco una persona bravissima non aveva mai vinto nessun titolo in carriera e devo dire che ha costruito questo Milan praticamente dal nulla è stato chiamato in corso la passata stagione ha dato un'identità a questa squadra ha dato la fisionomia di gruppo e ha fatto anche divertire i tifosi con un Milan molto molto giovane molto giovane ha sfruttato un po' l'esuberanza giovanile la follia giovanile ci ha messo dentro un mix con Giroud, Ibrahimovic eccetera eccetera gente un pochino più navigata e direi che ha meritato nettamente questo scudetto vinto sia pure l'ultima giornata l'aspettavo così la giornata di oggi l'avevo detto secondo me il Milan la chiude nel primo tempo la partita e allora a questo punto insomma il Milan è totalmente forte però ripeto c'è ben poco da dire se non fare i complimenti al Milan la cosa che diciamo si può in un certo senso sottolineare in chiave juventina di questo scudetto del Milan qual è? ragazzi è che dopo nove scudetti consecutivi della Juve l'Inter non è riuscita a vincere due consecutivamente cioè la Juve è quella che ha avuto sicuramente un ciclo come dire abbastanza difficile da ripetere molto difficile dire da ripetere l'Inter che era accreditata per prendere il posto della Juve in questa continuità di vittorie del campionato non c'è riuscita vedremo se sarà in grado il Milan naturalmente l'anno prossimo di bissare quanto meno il lo scudetto vinto quest'anno la Juve è stata spettatrice lo è da diverse settimane però un'altra considerazione che viene in mente oggi vedendo un po' l'andamento anche di Spezia Napoli era insomma di rimarcare perché ancora una volta la Juve abbia mollato totalmente una volta che ha acquisito il suo obiettivo cioè che era quello di arrivare quarta e ha smesso praticamente di giocare le partite mentre ho visto le altre squadre fare esattamente il contrario insomma Napoli ha più che onorato la conquista del suo terzo posto e soprattutto ha saputo superare un po' lo shock per essere arrivato vicino alla conquista alla possibilità di giocarsi lo scudetto l'ha superato brillantemente vincendo anche con punteggi ampi divertendosi col gusto di giocare col gusto di vincere le partite ciò che nella Juventus non si è visto non si è visto è questo il fatto preoccupante io è un po' di tempo che la Juve è così l'ho già ricordato anche nel periodo dei cinque anni di Allegri l'ultimo scudetto vinto con cinque giornate d'anticipo la Juve non vinse più una partita però è lì che mi casca l'asino cioè voglio dire perché per quale motivo perché non ci deve essere comunque il gusto di giocare una partita il gusto comunque di vincere una partita specialmente se porti una maglia che di per sé è come dire sinonimo di vittoria perché la maglia della Juve è sostanzialmente sinonimo di vittoria lo dice la storia della Juventus no ecco e io non capisco perché ci sia stata nei calciatori della Juventus sia in passato che quest'anno questa mancanza di amor proprio di attaccamento ad un certo valore e perché no il gusto di divertirsi il gusto di vincere il gusto di segnare anche se non hai più obiettivi da raggiungere nel frattempo ragazzi qui sta succedendo di tutto vorrei dire che mancano 15 secondi alla fine c'è una punizione dal limite per il cagliere vediamo se il balza riesce a compiere il prodigio perché praticamente sarà l'ultima azione immagino che verrà fiscata la fine proprio alla fine di questa punizione viene respinto il pallone la difesa del venezia ancora il cagliere da attaccare palla ancora in mezzo attenzione respinge il portiere no ragazzi è incredibile no si continua a giocare scusate me la devo seguire si continua a giocare e la prende il potere del venezia io credo che ci sarà il fischio finale credo che se andrà così vedo una donna tifosa del cagliari che si lascia andare a qualche insulto nei confronti dei suoi calciatori il venezia porta palla sta succedendo veramente una cosa incredibile il venezia adesso addirittura la possibilità di vincere la partita salvataggio sulla linea ma in questo momento arriva il no non è fischio finale va bene la vogliono prolungare immagino a salerno come stanno vivendo questi momenti però cerchiamo di andare avanti con il nostro discorso dicevo manca questa questo senso di attacca guardate per esempio il venezia più niente da chiedere o ragazzi è sceso in campo a roma contro la roma mettendo in difficoltà i giallorossi è sceso in campo questa sera finita è finita è finita il cagliari il retro c'è pazzesco la salernitana perde 4 a 0 in casa credo non so se sia cambiato il risultato nel frattempo e si salva è incredibile è una stagione incredibile però cosa vuol dire questo l'amor proprio che ci ha messo il venezia in questo il venezia ragazzi il venezia non ce l'ha messo la juve ecco perché la juve a volte quando ci penso è proprio una tovaglia da ribaltare giocatori da prendere oh oh ma le giocate no alle partite ma chi se ne frega se l'obiettivo è già stato raggiunto questa maglia impone di vincere le partite lo impone e se non sentite dentro questo fuoco fate bene ad andare via fate bene ad andare via perché la juve non ha bisogno di gente che non sente questo fuoco dentro la juve ha bisogno di gente che il fuoco lo sente dentro tutta la stagione poi può andar male a volte può andare ma non si può vincere sempre e su questo siamo perfettamente d'accordo ma io non ho più visto il fuoco ma non lo vedo da anni una volta al risultato acquisito l'anno scorso sia l'ultima giornata a bologna certo c'era l'obiettivo da raggiungere lì ma non esiste non esiste ragazzi non esiste è una juve da rivoluzionare io sono convinto di quello che sto dicendo convinto vanno via in otto chi per una ragione chi per l'altra sapete per quale motivo di bala sapete quale motivo c'è gente che chiede di andar via ken pellegrini si accomodi si accomodi la juve deve ragionare così io tengo quelli che hanno il fuoco dentro e prendo gente che ha voglia di far esplodere questo fuoco e se non ci si riuscirà l'anno prossimo dovrà cambiare anche il timone sarà così è inevitabile lo ripeto ancora una volta per chi non avesse capito bene nel video di oggi se la juve tra un anno sarà qui a festeggiare un quarto posto senza nessun trofeo cambierà anche il timone credo proprio che sarà così sarebbe logica applicazione di un teorema che dice che l'allenatore che non vince specialmente di una grande squadra il primo anno passi secondo anno rischia fortemente ma è normale sono tutti uguali e sono tutti accomunati da questo possibile destino però adesso guardiamo al futuro guardiamo a quelli che saranno gli acquisti e dopo di che commenteremo la nuova io sono molto 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 curioso ma la juve lo ribadisco ancora una volta deve dare subito dei segnali importanti iscrivetevi al canale ci vediamo domani ciao ragazzi grazie 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 grazie